Cosa devono fare? Pietro mettiti lì, no non apre, però dipende perché guarda che... Lì devi aprire, devi arrivare forte e aprire, punto. Se arrivi non convinto ti ammazzi e basta. Chi va? Chi è lei? Dimmi dove devi andare. Dove vuoi andare? Quelli? No, faccio solo il primo. Se fai il primo devi fare anche il secondo, sennò ti trovi lì. Vai bene. È come un gatto. Ha cambiato idea. Ti sei strizzato eh? Apri cazzo allora, apri. Guarda come fa lui. Vai che lui gli dà eh. Non gli dà, non gli dà. non è che c'è il risultato non è che c'è il risultato non è che c'è il risultato ehi caro non è che c'è il risultato ehi caro ehi caro è che cazzo meglio avere il casco a piedi si si ma puoi dir giuro ti fai più male a piedi quando sono in giro loro non riesco a prendere velocità ascoltami te hai già giocato 20 jolly stamattina quindi smettila e basta questo è stato l'ultimo perché arrivare lì e parcheggiare sul sasso così è solo Sandro che ha parcheggiato sulla pianta sulla lama là è stato 1 volta te ne giochi 10 alla volta è troppo piano è lungo no no devi tagli ancora qua la terra la terra come la faceva il volet si devo andare giù guardargli addosso è che senza freno se sbaglio mi ammazzo anche tu non hai più freno posteriore arrivo lì che devo fermarmi lì sono ciulato ma che volta ti ammazzi giù dal Michele spero che sia ma è proprio così ostiata è proprio così ostiata